Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 176esima puntata del podcast di Marcos Box a commentare come sempre con voi le principali notizie del mondo del software libero open source della settimana appena trascorsa. E apriamo questa nuova puntata del podcast di Marcos Box che vi ricordo di essere anche in formato video, quindi se mi seguite su YouTube potete vedere il mio bel faccione, potete avere contemporaneamente uno sguardo alle notizie, quindi con screenshot e quant'altro, quindi può essere utile per seguire meglio i miei discorsi se preferite. Apriamo, dicevo, questa puntata con l'argomento della scorsa settimana, con l'argomento principe della scorsa settimana, ovvero la backdoor di XZ che ormai la conoscete tutti quanti, ha causato terrore e sconforto all'interno della comunità del software libero open source, ha causato enormi grattacapi ai sistemi di mezzomondo, ma soprattutto ha causato enormi grattacapi ai manutentori delle principali distribuzioni Linux che si sono dovuti affannare per cercare di capire se questa backdoor avesse influenzato in maniera negativa la distribuzione o se magari è una cosa che non ha causato danni, vabbè, insomma, è successo un bordello, si sono messi tutti quanti sul chi va là e si sono messi tutti quanti a analizzare le proprie distribuzioni per cercare di capire se la backdoor era presente, se era stato fatto ragionamento, ma soprattutto si sono interrogati se era il caso o meno di effettuare un rollback del pacchetto XZ, non soltanto alla versione, diciamo, quella pre-incriminata, quella pre-backdoor, ma addirittura a versioni ancora più vecchia, perché a quanto pare il tizio che ha inserito la backdoor all'interno del pacchetto di XZ contribuiva allo sviluppo di XZ da tantissimo tempo, quindi, giustamente, la paranoia è tanta da parte dei sviluppatori, dei manutentori e delle distribuzioni che hanno deciso, in alcuni casi, di addirittura tornare in versioni molto più vecchie del pacchetto XZ vabbè, comunque, nelle prossime settimane continueremo a seguire lo sviluppo vi dicevo, ci sono state due distribuzioni che hanno accusato il corpo e che hanno subito, o meglio, subiranno nei prossimi giorni alcuni piccoli ritardi sulla tabella di marcia per il rilascio delle nuove versioni la prima distribuzione che avrà un ritardo sulla propria tabella di marcia è Debian perché doveva essere rilasciata Debian 12.6 il 6 aprile, quindi sabato 6 aprile però, adesso, per via di questa backdoor, il team di Debian ha deciso di posticipare il rilascio di Debian 12.6 a data da dessinarsi ovviamente, sebbene al momento non ci siano prove che suggeriscono che la versione stabile di Debian sia interessata da questo problema gli sviluppatori di Debian hanno comunque deciso di posticipare il rilascio della 12.6 a fine di, diciamo così, intraprendere una indagine approfondita che prevede la valutazione del suo potenziale impatto su tutto l'archivio di Debian quindi ci sarà molto da lavorare per quanto riguarda il team di sviluppo di Debian che si metterà lì a valutare il caso pacchetto per pacchetto a questo punto sapete bene che una prerogativa di Debian Stable è quella proprio di essere una delle distribuzioni roccia quindi non ha problemi come altre distribuzioni i pacchetti vengono stratestati quindi ci sta che Debian decida di fare una cosa del genere si prende il suo tempo, vedono di fare le cose per bene per offrire il prodotto quanto più stabile, sicuro e esente da backdoor possibili passatemi questo termine un'altra distribuzione che subirà un piccolo ritardo a causa della backdoor di XZ è Ubuntu 24.04 LTS perché la versione beta di Ubuntu 24.04 LTS inizialmente prevista per il 4 di aprile è stata rimandata l'11 di aprile la decisione di Canonical ovviamente è stata presa in via precauzionale e in via precauzionale Canonical ha deciso di ricostruire tutti quanti i pacchetti binari che erano stati creati per Ubuntu 24.04 LTS dopo la scoperta della vulnerabilità secondo Canonical questo darà la certezza che nessun binario delle build di 24.04 LTS possa essere influenzato da questa minaccia quindi anche in questo caso Canonical ha deciso di prendere una strada rognosa perché porterà via del tempo però giustamente anche in questo caso ci troviamo di fronte a una versione di Ubuntu con supporto a lungo termine che è una versione che viene utilizzata anche in ambiente produttivo e scopi commerciali quindi hanno la necessità di avere un prodotto stabile e sicuro quanto più possibile quindi hanno deciso di conseguenza di prendere questa decisione non hanno detto però se ci saranno ritardi nel rilascio della versione stabile di Ubuntu 24.04 LTS a sto punto io ipotizzo che alla fine ci sarà qualche ritardo al massimo di qualche giorno perché immagino che la tabella di marcia verrà comunque stravolta anche quella successiva ma vabbè se ci saranno novità al riguardo li troverete comunque come sempre commentate sul podcast di Marcos Box sul blog di Marcos Box e passiamo adesso a una notizia riguardante la derivata più importante e più famosa di Ubuntu ovvero Linux Mint perché come da tradizione è finito il mese di marzo in questo caso ed è arrivato come ogni fine mese il consueto post mensile di Clement Refebbre sullo sviluppo di Linux Mint e di Cinnamon questo mese ci parlerà in particolare ci parla in particolare di Linux Mint 22 la prima novità riguarda la lingua di installazione che cosa hanno deciso quelli del team di Linux Mint? di apportare dei miglioramenti affinché le installazioni di Linux Mint 22 siano meglio localizzate e utilizzino meno spazio sul disco rispetto a prima praticamente che cosa verrà fatto verrà fatto che all'interno della ISO di Linux Mint 22 troveremo alcune lingue preinstallate troveremo i pacchetti della lingua inglese ovviamente perché essendo la lingua franca di tutto il mondo troveremo il pacchetto della lingua tedesca lo spagnolo, il francese, il russi, il portoghese, l'olandese e udite udite anche l'italiano quindi il team di Linux Mint ci ama evidentemente ha una grande base di utilizzatori anche in Italia per questo hanno deciso di includere l'italiano tra le lingue presenti sulla ISO che cosa verrà fatto adesso? che in fase di installazione se per esempio voi avete deciso di installare e utilizzare la localizzazione italiana alla fine dell'installazione vi ritroverete sul sistema soltanto la lingua italiana e la lingua inglese che qui viene messa di default perché magari alcuni pacchetti non sono tradotti e tutte quante le altre lingue verranno rimosse quindi questo consentirà di risparmiare spazio sul disco lo strumento Sorgenti Software poi supporterà in nuovo formato DEB 8.2.2 cliccate su link che trovate sulle pagine di Marcosbox per sapere le maggiori informazioni ci sarà su Linux Mint 22 Pipewire come nuovo server audio predefinito ci sarà il supporto al formato JXL in Pixie visualizzatore di immagini c'è poi un'altra novità che riguarda la gestione dei kernel Linux Mint 22 seguirà Ubuntu in futuro quindi verrà fornito con una nuova serie di kernel release dopo release questo significa che partirà questa versione di Linux Mint 22 con il kernel presente su Ubuntu 24.04 quindi la serie 6.8 se non ricordo male e poi seguirà gli aggiornamenti che di volta in volta proporrà Canonica per la sua Ubuntu è stato poi implementato un nuovo thumbnail per il file di Gimp e poi c'è la nascita di una nuova X-App che il team di Linux Mint è andato a creare per soppiantare Gnome Aligned Accounts che è quell'applicazione, quel progetto che permette agli utenti di connettersi ai propri dati nel cloud sapete come funziona su Gnome? avete questa applicazione che vi consente che ne so, di collegare l'account di Google di Nextcloud, di Microsoft e di quant'altro e vi consente di avere la sincronizzazione ad esempio della posta elettronica ma anche per esempio l'accesso ai file in cloud all'interno dei file manager siccome questa applicazione non è compatibile con la versione GTK presente su Linux Mint hanno deciso di forcare questa applicazione di creare questa nuova X-App e viene chiamata questa nuova applicazione Gnome Online Accounts GTK ovviamente come ogni altra X-App che si rispetti e il suo obiettivo è quello di funzionare per tutti quanti gli ambienti Dexo per qualsiasi distribuzione Linux è una cosa interessante che hanno fatto come al solito Gnome, con il rilascio di Gnome 46 è passato al GTK 4 quindi ha detto a tutti quanti gli altri a me non me ne frega io vado avanti per la mia strada quindi tutti quanti gli altri Dexo per variamente minori che magari utilizzavano il GTK 3 si sono trovati adesso sprovvisti e questa sta causando danni anche agli altri Dexo per variamente e si sa quelli di Gnome sono prospettati al futuro diciamo così quelli di Sidna sono prospettati a raccontentare un po' tutti perché Linux Mint utilizza un mix di tecnologie vecchie non sta seguendo di pari passo le GTK fa le cose con camera le implementa mano a mano senza con camera come sembra con la fremma volevo dire un termine foggial ma non ve lo dico perché se no poi ci vogliono i sottotitoli di traduzione vabbè questa applicazione consente funziona con Cinnamon con Bagi con XFSE con Mate quindi funziona con tutto poi per maggiori informazioni cliccate sul link che trovate sulle pagine di Marcosbox altra novità interessante che fa riflettere soprattutto perché è un programma un po' particolare che ormai è un programma di nicchia il team di Linux Mint ha deciso di mantenere la propria versione del pacchetto di compilarsi la propria versione del pacchetto di Thunderbird perché su Ubuntu 24.04 Thunderbird è stato migrato al formato Snap sapete bene che Linux Mint è Snap Free e già in passato il team di Linux Mint si è dovuto mettersi a compilare Firefox non prenderò più dai repository di Ubuntu dopo che Canonical ha introdotto Firefox in formato Snap sulle sue ultime versioni di Ubuntu adesso ha fatto la stessa cosa con Thunderbird e quindi di conseguenza il team di Linux Mint per continuare a offrire questi programmi ha deciso di sobarcarsi il carico di mantenere e impacchettarlo per Linux Mint quindi il problema l'unica cosa che mi facevano giustamente notare molti di voi è che ha senso continuare a propinare Thunderbird nell'installazione predefinita su una distribuzione perché quanti di voi utilizzano i client di posta elettronica io la maggior parte di persone che conosco vanno comunque sempre di web app io in primis vado sempre di web app non ho mai tanto amato i client di posta elettronica vabbè comunque come sempre mi fa pena sempre il solito discorso che faccio ogni volta con Linux Mint Linux Mint vuole accontentare tutti e evidentemente una parte della fanbase di Linux Mint o soprattutto una parte degli disoccupatori molto probabilmente vuole continuare ad avere Thunderbird e quindi hanno deciso di farlo e vabbè non penso che si causeranno così tanti problemi di forza robot tra prenti sia una cosa che non ho ancora capito magari devo fare qualche domanda direttamente sul forum di Linux Mint e una cosa che non ho capito è che ultimamente allora sapete che Mozilla ha iniziato a rilasciare Firefox in formato dev da un repository suo quindi di conseguenza a sto punto non fa prima Linux Mint anche in questo caso a prelevarsi direttamente come fonte quella di Mozilla per il suo pacchetto di Firefox si risparmia anche delle risorse per compilarlo questo lo devo chiedere anche voi pensate a una cosa del genere a sto punto che cavolo la mantiene a fare se hai quella ufficiale che ha alcuni flag per migliorare le prestazioni del browser e quant'altro vabbè comunque questa è una farneticazione mia di queste ore serali continuano poi i lavori su jargonaut che è l'applicazione che va a sostituire ex chat dopo l'interruzione dello sviluppo ha ricevuto questa applicazione un nuovo layout una nuova icona per abbara delle applicazioni funzionalità di formattazione e testo supporto per lo scrollimento e recupero autocompletamento contro l'autograf quindi ci stanno credendo anche molto in questa nuova X app quella di Linux Mint vedremo poi se tutti questi sforzi saranno ripagati anche da altre distribuzioni che magari vorranno includere questa applicazione infine poi è una notizia di servizio quella che è stata data per quanto riguarda sempre Linux Mint è che i repository dei pacchetti ogni tanto vanno giù hanno problemi di gentezza soprattutto quando il traffico è elevato e per fare per migliorare la vita agli utenti quando si tratta di aggiornare la distribuzione il team di Linux Mint sta lavorando ad una nuova partnership con un altro gestore fornitore di servizi CDN con Fastly per migliorare i repository di Linux Mint quindi migliorarne la velocità quindi complimenti anche sotto questo punto di vista al team di Linux Mint e tiratina dovecchie magari altri team che invece hanno i repository che vanno lentissimi in specie nelle ore serali e cambiamo adesso distribuzione parliamo di Fedora con una proposta che è arrivata a capo e collo giorno 2 aprile allora se arrivava questa proposta il giorno del primo aprile tutti quanti avremmo pensato questo è un pesce d'aprile che ci hanno voluto fare quelli della community di Fedora ma a quanto pare poi si è rivelata una cosa sensata una cosa che è stata proposta veramente perché è stata proposta il giorno 2 aprile quindi non era un pesce d'aprile perché è stata proposta una modifica per rendere KDA il desktop predefinito di Fedora quindi si è aperta una discussione all'interno del portale di Fedora riguarda questa proposta di migrazione la proposta è stata avanzata da Joshua Strobl sviluppatore e membro attivo della community di Fedora non dai più per i lavori su Bagi Desktop e Solus Linux fra l'altro lui è anche il manutentore della spin di Fedora con Bagi Desktop la proposta prevede che prevede quella di rendere KDA Plasma index per variant predefinito a partire da Fedora 42 e qualora dovesse essere accolta favorevolmente in questo momento ci sono discussioni riguardo continuo sul POS l'idea di chi ha proposto questa modifica è quella di far diventare l'edizione KDA quella principale e nome una spin di serie B quindi come adesso KDA quindi con una spin separata ci sono state una serie di motivazioni che sono state messe nel post per supportare questa questa modifica perché KDA Plasma sta migliorando sempre di più offre un buon supporto a Weyland anche se con KDA e NVIDIA e Weyland succede sempre il pastrocchio di questo ve ne parlerò in un video apposito perché sto avendo problemi con queste versioni 6.0 con diverse applicazioni con driver NVIDIA e Weyland in particolare sto avendo problemi con i browser Chromium Bused che danno problemi di sfarfaramento e quant'altro per non parlare del fatto che ci sono problemi con altre applicazioni tanto qua e là però sono comunque in netta via di miglioramento speriamo che con la 6.1 di KDA Plasma tutto questo si sirvi comunque se volete avere maggiori informazioni su questa proposta che è stata fatta per rendere KDA Plasma il desktop environment predefinito di Fedora 42 tutte le altre cose andate a leggere l'articolo che ho pubblicato sulle pagine del blog e soprattutto andatevi a leggere la discussione che è stata generata sullo sito di Fedora quindi andatevi a leggere tutta quanta la discussione e traete le vostre conclusioni del caso a voi piacerebbe una Fedora con KDA io so già che una cosa del genere non potrà mai accadere nemmeno se si arrivano proprio le truppe cammellate a supportare questa proposta nel concilio di Fedora perché Fedora è gnome reddate è gnome reddate è Fedora e quindi c'è proprio l'amore fraterno tra le comunità vabbè passiamo all'ultima notizia di questa puntata e qui mi faccio aiutare perché devo pronunciare questa parola non riesco a dire lo Stato federale tedesco tedesco mi è riuscito pure così dello schwestern hol aspetta un attimo come si pronuncia schleswig holstein schleswig holstein schleswig holstein ha deciso di migrare a LibreOffice e Linux ben 30.000 PC della loro pubblica amministrazione la Germania continua a far a fare esperimenti con il software libero open source continua a crederci nel software libero open source e dopo un progetto pilota lo Stato federale tedesco settentrionale dell'Osterno ha deciso di passare da Microsoft Windows e Microsoft Office ha Linux e LibreOffice e anche poi di utilizzare altri programmi software gratuiti open source e lo farà su 30.000 PC utilizzati nella pubblica amministrazione dello Stato federale tedesco la notizia è stata data proprio sulla home page di questo Stato del primo ministro presidente dello Schleswig holstein questo di renderà di fatto questo Stato un Stato con una sovranità digitale nella sua amministrazione quindi non verranno più utilizzati software commerciali non verranno utilizzate dipendenze da software commerciali non ci sarà più la dipendenza da software commerciali e che cosa prevede? prevede sei pilastri sei punti principali della migrazione a questa verso il software libero allora il primo è il passaggio da Microsoft Office al LibreOffice che è il primo step ci sarà poi la migrazione del sistema operativo da Microsoft Windows a Linux ci sarà poi una collaborazione all'interno dell'amministrazione statale con altri soggetti per l'utilizzo di prodotti open source come Nextcloud Open Exchange Thunderbird in combinazione con un'invention di connector per sostituire Microsoft SharePoint e Microsoft Exchange e Microsoft Outlook quindi tutti i prodotti di Microsoft che se ne vanno a farsi bene dire ci sarà poi la concessione di un servizio di directory basato sull'open source per sostituire Microsoft Active Directory e poi ci sarà poi un inventario delle procedure per quanto riguarda la compatibilità e l'interoperabilità con LibreOffice e Linux quindi verrà fatta verrà garantita il funzionamento di tutto quindi l'interscambio di file e quant'altro e addirittura ci sarà anche lo sviluppo di una soluzione di telefoni open source per sostituire Telecom Flexport comprimenti chapeau anzi come si dice chapeau in tedesco non lo so è inutile come si a me mi vuoi dire il pagino adesso chapeau in tedesco chapeau si scrive chapeau in tedesco chapeau chapeau ah no chapeau l'ho scritto così l'ho scritto vabbè fate conto che non avete visto niente perché è uscito un'altra cosa chapeau tanto di cappello ai tedeschi che come al solito continuano dicevo come dicevo prima a supportare il software libero open source a livello statale stanno facendo una serie di esperimenti sapete bene in passato ci sono stati quelli di Monaco ci sono stati anche altri cittati altri altre realtà della pubblica amministrazione tedesca ci credono ci credono ci credono e stanno continuando a spingere speriamo che questa cosa venga presa di ispirazione da anche da altre istituzioni europee e soprattutto istituzioni italiane perché la sovranità dei dati è una cosa molto importante l'utilizzo di formati standard di interoperabilità aperti è la cosa più importante che esiste a questo mondo e anche il risparmio che si può generare con una cosa del genere è molto importante per una pubblica amministrazione perché sono soldi delle tasche nostre ecco questa ultima notizia si conclude qui questa 176 se siamo arrivati 176 puntata del podcast di marcosbox se vedete il sito è un po' buggato ultimamente perché sto facendo un po' di esperimenti ho cambiato il logo ho cambiato i colori sociali vabbè anzi lasciate un commento per fatemi sapere se vi piace questo nuovo look del sito dicevo si conclude qui questa puntata del podcast di marcosbox come sempre vi invito a seguirmi numerosi sui principali social mi trovate su facebook mi trovate su x mi trovate su youtube dove trovate il canale dedicato ai video di marcosbox non soltanto i podcast ma trovate anche delle recensioni e altre considerazioni qualità mi trovate sulle principali piattaforme di podcasting mi trovate su wincedin con il mio profilo personale mi trovate su mastodon nell'istanza mastodon1 e mi trovate soprattutto con telegram dove c'è il canale principale di telegram che potete utilizzare a modi feed reader la community telegram alla quale vi invito a iscrivervi numerosissimi per favore iscrivetemelo perché non si parla soltanto di links si parla di tutto quindi più ne siamo meglio e poi c'è un canale telegram dedicato alle offerte amazon che potete utilizzare per supportare il blog acquistando da uno dei miei link affiliati di amazon che il tradice comunque di affigliazione lo trovate anche sulle pagine del blog volendo se potete mettere manualmente o se volete fare le cose più semplici possibili c'è un simpatico tux generato con l'intelligenza artificiale ci cliccate adesso per vi vi crea diciamo così url già quel con affigliazione infine vi ricordo soprattutto che potete supportare il podcast di marcosbox ma anche il blog di marcosbox acquistando rinnovando la vostra vpn su nord vpn e qui in sotto vi rilascio e vi metto il link con l'offerta del momento di nord vpn sapete bene il servizio vpn che utilizzo anche io ormai da diverso tempo è il mio in termini di affidabilità tra l'altro ho scoperto una cosa carinissima che non so se vi è mai capitato a voi a me capita spessissimo con tiscali che è arrivata la sera se devo scaricarmi aggiornamenti da flat tab la condizione mi va proprio lentissima quando vado a fare lo scaricamento degli aggiornamenti su reti tiscali poi che cosa faccio io basta che attivo la vpn e poi la velocità del da road da flat tab va a creare una scheggia limitazione del mio provider perché non so che cosa che cosa fa la sera dove mi dirotta con il traffico comunque la vpn in questo caso mi salva e lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast si è marcosbox e alla prossima ciao ciao